Prefazione, Passport to Hell, di Leon Cafzezzi. Tutte le grandi opere sono sempre generali. Don Quixote, Fausti, Amleto, sono tutte generalizzazioni. Tutti i processi si svolgono davanti ai tuoi occhi. Dobbiamo cercare l'unità, confrontare gli opposti. Qui sta l'intera questione lo scrittore Maxim Gorky una volta ha scritto. Di questo calibro è anche l'opera letteraria che abbiamo in mano con il titolo, Passport to Hell, di Leon Cafzezzi. L'autore lo ha definito un romanzo ma lo chiamerò un romanzo del nostro tempo. Per i valori che porta in sé per la manualità dello stile satirico-umoristico, l'esistenzialismo, la coerenza dell'antispettacolo, le tracce intelligenti che lascia. Chiamerò il romanzo più ottimista che abbia letto ai nostri giorni. Forse una sinfonia di questa fine del secolo l'interessante della scrittura. La struttura mobile del tempo e allo stesso tempo il suo statalismo hanno qualcosa di Tarkovsky. La storia dell'umanità, vista in un piano panumano, è come uno spettacolo comico tragico. Dove solo gli attori, gli oggetti di scena, il corso cambiano e il dramma è lo stesso nei secoli e la stessa messa in scena, lo stesso dolore umano, la stessa tristezza. Il pensiero metafisico della vita, dentro un cerchio e non una spirale di sviluppo leninista, dato dall'autore eloquentemente sono abbastanza razionali, ma portano anche in sé una fantasia ottimistica di trasformazione della vita, ovviamente entro i limiti dell'ipotesi. Bricchena Quadari